Seduci la donna sposata dei tuoi sogni in sette mosse? Allora, ovviamente sedura una donna sposata deve implicare una cosa, che tu non vuoi assolutamente che lasci il marito, quindi non ti devi assolutamente innamorare. Devi saperlo da subito. Anzi, ti suggerisco di non sedurre una sola donna sposata. Soprattutto, beh, se tu hai una tua relazione, allora una donna sposata può andare bene. Ma se tu non avessi una tua relazione stabile, una tua relazione, diciamo, definitiva, matrimoniale, o di convivenza, o quello che è, allora devi puntare su più donne sposate, in modo tale da non vincolarti a nessuna, metterle un po' in competizione tra loro e divertirti fondamentalmente. Quindi punta a più donne sposate. Se invece hai una tua relazione matrimoniale o una tua relazione, diciamo, di qualunque genere, allora una donna sposata come trasgressione è l'ideale, va bene. Sedura una donna sposata, apparentemente può sembrare un'impresa difficile, ma poi potrebbe essere più facile, no? Apparentemente potrebbe sembrare un'impresa difficile perché questa ha il marito, ma paradossalmente proprio perché ha il marito si seduce più facilmente, perché il marito rappresenta la figura istituzionale, rappresenta dopo un po' di tempo sicuramente una figura che magari dà stabilità, affidabilità, magari sì, magari no, ma comunque rappresenta una figura istituzionale. E spesso nei matrimoni, di lungo termine soprattutto, manca poi quella componente emozionale, manca poi quella componente trasgressiva, manca poi tutta la parte di trasgressione. E quindi è più facile, insomma, perché è ovvio che tu devi entrare come trasgressivo, non devi presentarti, cioè voglio dire, se devi sedurre una donna sposata con un marito che magari lei giudica pur un po' noioso, perché magari ormai sono anni che le racconta le stesse cose, dice le stesse cose, fa le stesse cose, lo fanno nello stesso modo, però un marito che le dà stabilità, affettiva diciamo, e anche pratica materiale, beh, tu non devi presentarti come più noioso del marito e pretendere di darle stabilità, perché saresti come un canotto che si scontra contro una portaerei, non avresti possibilità. Invece devi entrare per il verso opposto, devi andare a soddisfare quella cosa che manca, la trasgressione, quindi devi darle delle spremute di cuore fondamentalmente. Quindi devi intanto, per prima cosa, fare colpo, la mossa 1 è fare colpo. Quindi è la prima mossa, devi apparire affascinante, interessante, devi apparire, devi essere in forma fisicamente, magari più in forma del marito, se possibile, e poi essere curato, avere una buona conversazione, cercare di farla ridere, di essere ironico. Il marito difficilmente, cioè la farà ridere a letto fondamentalmente, ma fuori dal letto è difficile che la farà ridere. Quindi devi presentarti, diciamo, come divertente. Secondo passo è creare comunque una connessione emotiva. Cioè una donna, anche se sposata, non vuole andare a letto con uno tanto per scopare, come fanno gli uomini. Cioè ha bisogno comunque di una connessione emotiva. Quindi ascoltala. È un punto fondamentale questo. Il marito non l'ascolterà più, cioè o parlerà soltanto di luce, gas e telefono, figli se ne hanno, ma non ascolterà più in profondità quelle che sono le sue esigenze. Quindi un uomo che l'ascolta, che la sa far parlare, che sa creare, crea subito rapidamente una forte empatia, ed è facile che lei inizi a perdere un pochino la testa. Ovviamente devi farla sentire speciale, perché le donne sposate spesso si sentono trascurate dai loro mariti. Se riesci a farla sentire speciale, ma assolutamente senza spendere soldi, non devi spendere un euro, ma con qualche galanteria, magari qualche messaggino romantico, dipende dove l'hai conosciuta o dove la conosci, insomma, aprendole la portiera dell'auto, beh, se riesci a farla sentire speciale, sarei già a metà dell'opera. Qualche complimento. E poi capirai, se magari la frequenti in qualche ambiente, così che la stai agganciando, se lei, diciamo, si presenterà più curata, cercherà di essere più femminile. Ecco, questo è molto importante. Ovviamente è anche importante creare un'atmosfera romantica. Cioè, se crea un'atmosfera romantica, ovviamente nella riservatezza, perché è fondamentale. Quindi, se devi invitarla da qualche parte, ovviamente non è, puoi tranquillamente, dopo che hai creato un feeling, invitarla a casa tua, creare magari un po' di romanticismo. Difficilmente una donna sposata potrà andare in giro, diciamo, anche a cena fuori, il che è anche un vantaggio. Perché, con la scusa che non, diciamo, che non può farsi vedere in giro, tu risparmi tempo, soldi e tutto il resto. Quindi, e poi dipende. Ovviamente, se tu sei sposato pure, beh, devi trovare delle soluzioni alternative. Però cercare di fare un po' di romanticismo. Se tu, invece, sei libero, puoi tranquillamente portartela a casa. Diciamo, magari anche in orari in cui lei può, insomma, magari pomeridiani, dipende un po'. Comunque, è importante, diciamo, che tu dimostri la riservatezza. Cioè, lei non deve assolutamente pensare che tu le creerai problemi col marito. Questo è un punto fondamentale. Quindi, non farti vedere troppo coinvolto, perché se una pensa che sei troppo innamorato, gentile sì, ma non farti vedere troppo coinvolto, perché perché si sgancerà. E non farti neanche vedere morto di figa. Infatti, la mossa numero cinque, non avere fretta. Quindi, intanto ti suggerisco di agire su più donne sposate. Quindi, la stessa cosa la puoi fare con tre, quattro, cinque, quelle che ti capitano, non so, nei vari ambienti, in ufficio, in palestra, in, boh, in giro, non so, dove vai, ci sono sempre donne sposate che magari vanno, frequentano dei luoghi senza il marito, anche perché si sono rotti i coglioni, magari dopo tanti anni. Quindi, se tu fai vedere che non hai fretta, lei, si vive questo romanticismo, no? Perché una donna sposata ha bisogno di un po' di romanticismo, ha bisogno di un po' di corteggiamento. È ovvio che se vede un uomo subito che vuole punta lì, tende a sganciarsi. invece farle vivere questa cosa qua. Però tu agendo in parallelo su più donne, diciamo che riesci a ottenere dei risultati che poi ti porterai tutte avanti e indietro, una dopo l'altra, te le porterai tutte. Il punto 6 che devi in qualche modo sottolineare è essere discreto. Questo ti servirà anche di evitare guai con i mariti, ma anche con, insomma, anche poi sono quelle situazioni incresciose. Quindi essere discreto, assolutamente, essere una tomba, non andare a dire io ho questa, io ho quella. Questo è un punto fondamentale. E la mossa 7 è farti vedere che sei comunque un uomo apprezzato da altre donne. quindi la pre-selezione per quanto riguarda le donne sposate serve moltissimo. Quindi crea subito un contesto. Se ne frequenti più di una, diciamo, le metti in competizione l'una con l'altra, no? Comunque anche nei social lei ti spierà è fondamentale. Se segui queste mosse avrai maggiore possibilità di sedurre la donna sposata o per meglio dire le donne sposate dei tuoi sogni. Metti un like e condividi il video con tutti i tuoi amici. Seguimi su tutti i canali YouTube.